Il conto alla rovescia è iniziato anche per l'Atalanta Under 23 che dopo le due partite di Coppa Italia sabato 24 farà il suo esordio stagionale in campionato. Siamo entusiasti per iniziare questo campionato, la preparazione è parzialmente finita, il peggio è andato, quindi ora è tutto in discese. Tanto lavoro, tanto sudore, sono alcune delle parole d'ordine del tecnico Francesco Modesto. Sì, si lavora e si suda tanto, però il mister lo conosciamo già, sappiamo già i suoi metodi, diciamo che il problema è per quelli nuovi che si devono adattare. Noi vecchi siamo già abituati e quindi è così. L'Atalanta Under 23 è alla sua seconda stagione in Lega Pro. Dopo un anno nel quale si è maturata importante esperienza, quali sono gli obiettivi di squadra? Diciamo che l'anno scorso siamo andati sopra le aspettative di tutti, anche penso le nostre, quindi ci aspetta un campionato tosto, sicuramente non ci sono partite facili perché l'abbiamo visto l'anno scorso e non dobbiamo mai guardare la classifica, però abbiamo lavorato tanto quindi ci faremo trovare pronti. Quali sono invece gli obiettivi personali di Simone Panada? Gli obiettivi sono quelli di sempre, sono quelli di migliorarsi anno per anno, giorno per giorno e poi diciamo che la cosa che voglio confermare è la duttilità, la capacità di ambientarmi in questa squadra e soprattutto di avere quella continuità che ho avuto l'anno scorso. Sabato alle 18 al Comunale di Caravaggio il debutto stagionale in campionato, ospite per l'occasione il neopromosso Alcione. Sì, ma mi aspetto una classica partita del campionato di Serie C, una partita tosta e sicuramente loro avranno un'intensità, non li conosciamo, però diciamo che adesso con i video li studieremo un po', abbiamo già preparato qualcosa e staranno a fare la partita. A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.